Ciao! In questo episodio vediamo le novità introdotte con la versione 1.49 di Sisma Studio che è disponibile attraverso il tool auto-update oppure è possibile scaricare la ISO direttamente dal sito internet ombron.it nella sezione di registrazione licenze e download. Una miglioria è apprezzabile durante il trasferimento del progetto sia del controllore che del pannello operatore. Quello che succedeva nelle passate versioni è che nel momento della sincronizzazione e del trasferimento Sisma Studio andava a chiudere, a nascondere tutte le finestre, tutte le tab aperte relative agli altri dispositivi. Ecco con la versione 1.49 questo non succede più quindi posso andare a trasferire ad esempio il pannello operatore lasciando tutte le mie finestre, le mie tab relative al parte del controllore aperte e visibili. Quindi andando a chiudere abbiamo ovviamente ancora tutte le finestre e nel caso il layout composto da diverse finestre non alterato da Sisma Studio. Gli sviluppatori si sono anche dedicati nell'ottimizzare quello che è il tempo di risposta di Sisma Studio nel passaggio da una finestra a un'altra soprattutto nel caso in cui le finestre siano relativi a dispositivi diversi come per esempio il passaggio da quello che è una pagina del pannello operatore a quello che è una sezione del programma del controllore. Un'altra novità riguarda le funzioni di comparazione offline tra diversi progetti quindi ad esempio ho un progetto aperto, vado ad eseguire la comparazione con la versione precedente quindi vado a selezionarla la 1.94, come al solito devo scegliere su quali dispositivi eseguire il confronto quindi lascio selezionate tutte le voci in particolare il controllore che andremo, l'unico controllore del progetto che andremo a confrontare, schiaccio su compara e quello che possiamo fare è ovviamente visualizzare in formato grafico le differenze con questo visualizzatore, possiamo anche copiare prendendo dal progetto vecchio e portandolo sul progetto nuovo le differenze. La novità è la possibilità con questa spunta di andare a stampare le differenze quindi andando a selezionare questo print differences e facendo la preview vediamo proprio che il risultato è un file, un pdf con punto per punto quelle che sono le differenze tra il progetto vecchio e il progetto nuovo quindi in modalità grafica sia per quanto riguarda in questo caso la sezione 0 sia andando a fare la preview della sezione 1 vedremo la differenza per quanto riguarda la sezione 1. Il pulsante print ovviamente va a generare il file pdf completo quindi possiamo ovviamente o andare a stampare direttamente se abbiamo una stampante oppure proprio usare la funzione di Maxwell per creare il pdf e il risultato sarà proprio un pdf completo delle preview che abbiamo visto in precedenza. Per quanto riguarda i controllori NJNX con OPC UA server integrato in concombitanza con l'aggiornamento di Sisma Studio sono stati anche rilasciati dei nuovi firmware che permettono di espandere le funzionalità e aumentare la compatibilità con i client OPC UA. In particolare se andiamo all'interno delle impostazioni del server OPC UA vediamo che abbiamo un'opzione qui in basso per quanto riguarda la possibilità o meno di espandere i nodi dei membri di una variabile di tipo struttura. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di questa modifica di questo aggiornamento l'unica modalità con cui il OPC UA server dei nostri controllori andava a esporre i dati di tipo struttura era a singolo nodo quindi a singolo oggetto. Il risultato è che alcuni OPC UA client non supportando la gestione accorpata dei dati in un singolo elemento non riuscivano a monitorare e visualizzare i valori dei membri delle variabili di tipo struttura. Andando quindi a scegliere la modalità estesa quello che succede è che l'OPC UA server va a creare per ogni elemento della variabile struttura va a creare un oggetto e quindi rende visibili questi dati anche ai client che prima invece avevano poi problemi di compatibilità. Per poter usufruire di questa novità è quindi sia necessario aggiornare Sisma Studio l'ultima versione ma anche aggiornare il firmware del controllore. Nel caso in cui abbiate bisogno di supporto ovviamente non esitate a contattare il nostro supporto tecnico. Andrò a raccontare poi meglio e mostrare degli esempi della differenza nell'utilizzo di questa modalità in un apposito episodio che andrò a pubblicare sempre sul nostro canale YouTube ma all'interno della serie OPC UA quindi poi vi consiglio di andarlo a vedere. Per quanto riguarda la parte safety verifichiamo una importante funzionalità che è il confronto offline dei progetti di sicurezza. In questo caso abbiamo già aperto il programma nella versione 1 andiamo quindi nella parte safety e nel menu file selezioniamo il confronto offline. Andiamo a indicare il progetto di destinazione che sarà la versione 2 e andiamo poi a fare il confronto in questo caso della programmazione. Il sistema ci dà un confronto giustamente sul corpo del programma andiamo ad ingrandire per comodità la finestra e poi andiamo a vedere il dettaglio. Nuovamente ingrandiamo la finestra di confronto e senza andare a passare tutto il progetto di sicurezza clicchiamo sul riferimento in modo da farci vedere la rang effettiva dove c'è la differenza e in particolare si capisce che qua c'è un tempo nel progetto originale di 500 millisecondi mentre nel progetto versione 2 è stato impostato un tempo di 300 millisecondi. Successivamente possiamo decidere se applicare le modifiche da destra a sinistra o da sinistra a destra a seconda della versione del progetto che ci interessa o semplicemente annullare poi il confronto.